Un cordiale saluto, buongiorno, ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV, sempre sintonizzati sul canale 17 del Digitale Terrestre, il nostro canale tanto seguito e che ci fa davvero piacere sapere che tante persone tutti i giorni ci seguono con affetto, come state facendo voi in questo momento, quindi grazie davvero di cuore a nome anche di tutta la redazione di tutto lo staff di Fano TV. Allora siamo qui come sempre per leggere i quotidiani, siamo qui per leggere i giornali, lo facciamo nel consueto appuntamento con occhio ai giornali. Prima però il santo del giorno, vediamolo, anche perché è un santo, anzi una santa straordinaria, è Santa Teresa di Gesù Bambino. Il sole è sorto alle 7.05 e tramonterà alle 18.51, questo è il tempo per oggi, vedete cielo nuvoloso con addensamenti nelle zone interne dalla tarda mattinata, avremo deboli precipitazioni diffuse nelle zone interne dove assumeranno localmente anche carattere di rovescio e sparse altrove, temperature lieve aumento, i venti nord orientali, il mare sarà mosso. Per domani, venerdì 2 ottobre, ancora cielo nuvoloso per nubi stratificate medio-basse con precipitazioni deboli, sparse più probabili nelle zone dell'entroterra, le temperature in aumento, i venti da oriente. Per sabato, sabato 3 ottobre, avremo cielo sereno, poco nuvoloso, avremo ampie schiarite, le temperature minime sono in diminuzione, ma le massime sono in aumento. Addirittura sabato è facile che arriveremo intorno ai 24-25 gradi, quindi insomma sarà una giornata tutto sommato gradevole. Per la giornata di domenica invece c'è attesa una giornata stabile con un buon soleggiamento per l'inizio della prossima settimana sarà caratterizzato da variabilità con rapida alternanza tra miglioramenti e fenomeni di instabilità. Allora, cominciamo a leggere i giornali, andiamo a Monbaroccio, la fusione tra il comune di Monbaroccio e quello di Pesaro. Il parere contro questa fusione non c'è, anzi sì, Ricci va a Roma e il Viminale gli dà ragione, ma il tesoro nero su bianco dice l'opposto. I monbaroccesi hanno messo in atto varie manifestazioni di protesta, non vogliono perdere l'autonomia. Ad inizio mese i sindaci, Ricci e Vichi hanno annunciato l'intenzione di annettere Monbaroccio a Pesaro, però c'è questa nota numero 93447 che dice se c'è l'incorporazione non si applica l'esenzione del rispetto del patto. Ora, questo ovviamente scombussola tutti i piani. C'è questa nota scritta nero su bianco che dice se c'è l'incorporazione non si applica l'esenzione del patto di stabilità. Quindi siccome in questo caso c'è l'incorporazione Pesaro-Monbaroccio, bisognerà adesso capire bene chi ha ragione e chi no. Allora, la pagina di Fano invece del resto del Carlino, infuriati per il settimo assessore, l'opposizione è scatenata, c'è imbarazzo nella maggioranza di centro-sinistra, si scatena la bagarre. Seri, dicono, è ostaggio del Partito Democratico. Il settimo assessore dunque ha scatenato la bagarre martedì sera in Consiglio Comunale. Nel Mirino è finito il sindaco di Fano Seri che è ostaggio del PD. Il Partito Democratico è a caccia sempre e continuamente a fame di poltrone. Il pretesto ovviamente è offerto dalla mozione di maggioranza che è stata presentata per rimediare l'errore di aver trovato nell'assoluto del 29 marzo in maniera compatta, con l'eccezione del consigliere Ciaroni, la mozione del vecchio che prevedeva la riduzione degli assessori da 6 a 3. C'è bene comune che vuol tornare a governare la città, anzi vuol tornare per governare la città. Due iniziative politiche, ma la notizia del giorno è appunto che rinasce questa lista, questo partito bene comune con l'obiettivo, dichiara Corrado Cardelli, di arrivare al governo della città. E quindi questa è la notizia che troverete sul quotidiano, sulla pagina di Fano. Poi abbiamo un giallo sbiadito questa mattina. Eccolo qua. Ladri senza cuore, rubano 300 euro nella cooperativa sociale. È stato messo a segno un colpo in via Buratelli, per noi è una grossa perdita, dicono, dice il titolare, un blitz nella pausa pranzo nei locali occupati dal mercatone del riuso. Ma i furti non sono finiti qui, anzi ce n'è un altro, un furto di trattori e di attrezzature in una casa colonica di San Biagio, a scoprirlo è stata la proprietaria. Poi, per quanto riguarda l'incendio che c'è stato qualche settimana fa nella cava di Solazzi, a Carrara di Fano, la proprietà dice e rassicura non c'è rischio di tossicità. L'avvocato Giuliano Cecconi scrive per conto della proprietà della cava Solazzi per precisare la notizia riguardante l'incendio che è scoppiato appunto qualche settimana fa. E' bene ricordare che l'area è stata sottoposta ad una lunga e meticolosa indagine da parte degli organi proposti, in primis l'ARPA, e quindi ne emerge e viene fuori che non c'è roba tossica. Poi, sempre per quanto riguarda i furti, questa me l'ha portata adesso la regia, quindi immagino che sia una notizia della notte, ve la dico lì, tentato, ve la butto lì, allora tentato furto con scasso al bar Torno che si trova in superstrada a Lucrezia. Quindi, come vedete, i ladri, anche se le forze dell'ordine sono bravissime ad acciuffarli anche a distanza di mesi, a volte anche di anni, però come vedete ce ne sono talmente tanti che non si fa tempo a... Poi è vero che quelli che prendono spesso riescono subito, quindi a volte sono sempre gli stessi, però è vero che c'è anche tanta gente che purtroppo si butta nella malavita e quindi compie furti, partono dal sud, arrivano da tutte le parti e fanno man bassa di ogni cosa. Quindi l'ultima notizia è quella della notte di questo ennesimo furto in un bar. La pagina di Fano, sempre del resto del Carlino, Associazioni contro la Proloco, giù le mani il turismo è roba nostra. Voi occupatevi delle iniziative, all'accoglienza ci pensiamo noi. Netta presa di posizione degli albergatori e dei commercianti, dopo le parole di Lucarelli, il presidente della Proloco di Fano. Tutti sono legittimati a parlare di turismo o di economia, ma quando si entra nello specifico di accoglienza e promozione, ovvero il turismo che ricordiamo essere una mera funzione economica, bisogna ricordare che questo ha connotati naturali di attività imprenditoriale, a cui un'associazione di volontariato per definizione è estranea. Andiamo avanti e adesso sulla pagina di Fano della Valle del Cesano c'è la notizia che i pergolesi vogliono la testa, come si dice in gergo giornalistico, della presidente dell'ASET Capodagli sui rifiuti a scatenare lo scontro, la vicenda della chiusura del centro di raccolta, anziché confrontarsi con l'amministrazione, scrive al comune tramite i giornali. Qui siamo e ci occupiamo, il giornale si occupa ovviamente del comune di Pergola. Poi la notizia invece che da Pesaro, un cinquantenne è stato denunciato perché scommetteva online e poi è sparito. Datemi soldi, vi faccio vincere, un pesarese truffa persino avvocati e medici. Il meccanismo era, si effettuavano delle giocate solo negli ultimi minuti, ha risultato ormai praticamente certo. Alessandro Fiumani, uno delle vittime, dice è vero, sono stato un pollo, ma lui era uno che ci sapeva fare ed era riuscito a convincere addirittura avvocati e medici. Adesso sulla pagina invece del Corriere Adriatico, quella di Pesaro, la provincia, tagli insostenibili, ma il bilancio c'è. Il presidente Tagliolini e Cambini dicono 90 milioni di euro destinati ai servizi e 20 milioni agli investimenti. La parte più consistente delle risorse sarà destinata alla viabilità e all'edilizia scolastica. Ecco la verità di Montagna. L'imprenditore Montagna, il cognome dell'imprenditore, spiega l'uscita dall'Atica e costruirà l'impianto di Via Togliati a Pesaro. Nel gennaio 2014 avevamo denunciato le carenze progettuali e la conduzione dei lavori non idonea. La pagina di Fano, l'orgoglio di Seri, non sono succube del Partito Democratico. Approvata la mozione che apre la strada al settimo assessore, Laura Serra di Noi Città però vota contro. Noi Città è la lista che ha fondato il sindaco. Rosetta Fulvi stigmatizza gli attacchi beceri, evocando il volantino 5 Stelle contro il ritorno suo di Minardi. Per discutere e approvare l'atto di maggioranza compie due forzature. Protestano le opposizioni. Patto per presidenza e giunta fumata del Partito Democratico. Poi sempre su questa pagina di Fano del Corriere si unanima la sede staccata dell'Istituto Agrario Cecchi che si trasferirà dunque a Rosciano, il Codma. L'assise civica, quindi il Consiglio Comunale, si esprime dopo il voto favorevole degli organi d'Istituto. Quindi l'Istituto Cecchi Agrario ha detto per noi va bene. Ora si attendono i pareri della provincia e della regione. Poi, sempre per quanto riguarda la Bagari in Consiglio, le minoranze di centrodestra unite, Presidente scorretto, vergogna. Rimane l'ipotesi dolosa invece per il Corriere Adriatico, l'incendio divampato domenica all'interno del Profilglas a Bellocchi di Fano. Il rogo a lavoro fermo, cioè quando le macchine erano ferme, e soprattutto il giornale ipotizza, insomma, il giorno dopo l'annuncio della centralina anti-smog. Quindi questo è quello che scrive il giornale questa mattina. Intanto ancora negato il gettone di presenza ai consiglieri che non votano almeno la metà degli atti, poi sotto, schianto, grave uno scooterista. Siamo sempre dalle parti di Bellocchi, siamo in via Papiria. Ci sono stati ieri alcuni incidenti stradali, tra cui anche questo, forse, anzi sicuramente il più grave, è avvenuto intorno alle 15, alle 3 del pomeriggio. È visto coinvolta un'auto ed uno scooter che si sono scontrati lungo via Papiria nei pressi dell'aeroporto in zona Bellocchi. In realtà è molto più verso l'entroterra che l'aeroporto. Comunque i due mezzi sono entrati in collisione all'altezza della sede della Vetroplast. Poi un appuntamento importante oggi. Al Pincio di Fano c'è un tir, un camion promozionale della Polizia di Stato per un web, quindi per internet più sicuro. E siccome internet lo usiamo praticamente tutti, a cominciare dai bambini piccoli, quindi quei genitori che hanno voglia di capire come proteggere i propri figli, possono andare questa mattina al Pincio, perché dalle 9.30 alle 12.30 c'è la Polizia Postale lì che vi spiega e vi dà qualche consiglio utile per tenere anche sotto controllo, non lo diciamo, è sotto controllo i figli quando sono su internet. Il viaggio della conoscenza tra filosofia e musica, c'è questa conferenza spettacolo al San Domenico, poi la 18enne Costanza si conferma campionessa, i campionati italiani di trampolino elastico. Il welfare a Fano non è mai nato, sabato un convegno organizzato da Bene Comune. Poi la vicenda della Croce Verde, o meglio degli stipendi di coloro che guidano le ambulanze. Allora, l'area vasta paghi gli stipendi, summit un incontro in prefettura, i sindacati chiedono di non retribuire la Solaris, ma direttamente i dipendenti. Abbiamo richiesto la responsabilità in solido a carico degli enti appaltanti come da contratto. Poi edifici scolastici, qui siamo a Monte Maggiore al Metauro, edifici scolastici e palestra raccolte di firme. Andiamo velocemente sulla pagina del messaggero, in apertura, liste d'attesa anche oggi, sindacati scettici, ghiselli della CGL, decalogo in parte già previsto in una precedente delibera che però non è stata mai applicata. Rossi, invece, della CISL, dice, temo sia un incentivo verso i privati. Santini della Will, qualcosa, dice lui, non torna. Assalto con il Kalashnikov, inferno sull'autostrada, rapina da 5 milioni di euro a Loreto, a due portavalori, è stata ferita una guardia. Sotto, da Fano, con l'Accademia Vitruvio, si viaggia nel labirinto della conoscenza, singolare serata all'ex chiesa di San Domenico, tra filosofia e musica, con Lucrezia Ercoli di Pop Sofia. E poi ancora, ancora sulle pagine interne, ma a questo punto abbiamo poco tempo, soltanto da Pesaro Urbino, fusione, nessuna trappola dal Viminale. Il sindaco di Pesaro Ricci incontra il sottosegretario dell'interno che gli esclude pareri negativi e rischi di non ottenere vantaggi economici, quindi che si sblocchi il patto di stabilità. Domani i sindaci dei due comuni incontreranno la popolazione di Monbaroccio e la provincia intanto approva. Un altro comune tenta di fondersi che è Urbino con Tavoleto, un altro doppio sì, a favore anche il Partito Democratico, inizialmente critico sulla procedura e poi dalla pagina di Fano, invece per chiudere la rassegna stampa della pagina di Fano del messaggero, ZTL a Lido, arrivano le tariffe scontate per i residenti dopo le proteste di chi era costretto a pagare come chi abitò in centro. Il comune rimedierà a questa ingiustizia abbattendo i prezzi fino a due terzi. Novità in vista anche in Via Nolfi, la parte nord, sempre a Fano, dove si tornerà all'antico. Marcheggiani dice che gli abitanti hanno ragione di lamentarsi. Poi il comune, abbiamo detto, dice sì alla sede di staccata dell'Istituto Agrario, mentre sulla pesca al mercato ittico, ricca, la pesca è ricca dopo il fermo, ma non ancora per la varietà dei pesci. Un camion contro una Vespa, ma in realtà era un'auto aziendale, un appunto aziendale, un cinquantenne finito in rianimazione, poi rubano anche al mercatone solidale e i bambini e i rischi della rete, la polizia ne parla nel camper, che è più che un camper, come dicevamo, dovrebbe essere appunto un tier, un camion piuttosto grande. La segna stampa finisce qui, grazie per averci seguito. Buona giornata e a domani. Buona giornata e a domani. Buona giornata e a domani.